Sono distrutto, dilaniato, non sono distrutto, sono dilaniato perché questa notte, diciamo, mi sono sparato tutta la 24 ore di Le Mans, è iniziata ieri pomeriggio alle 4, in realtà mi sono visto anche il pre-collegamento, quindi è dalle 3, sono lì davanti a Eurosport, davanti alla televisione, e ho chiuso la tv con un occhio qui e un occhio qui alle 17 del giorno dopo, ho dormito tipo un'ora, un mal di testa pazzesco, ero devastato e quello che vedete di me in questo momento non sono io, in realtà è una riproduzione dell'intelligenza artificiale in cui però si vede solo l'artificialità e non l'intelligenza. Questo è il succo del discorso di quello che state vedendo in questo momento, per cui non mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire perché, ma in realtà faccio solamente complimenti a Ferrari perché ha fatto qualcosa di realmente straordinario, ha portato in pista un team incredibile, è un team incredibile questo di AF Corse, stavano mettendo davanti pure la macchina loro, quella privata, quella gialla, se non fosse stata per la rottura della parte elettrica. Se non fosse stato per la rottura della parte elettrica, sarebbe anche lei probabilmente arrivata in zona podio, e secondo me tra Kubica, tra i Feijé e il terzo pilota che mi sfugge in questo momento perché sono veramente delaniato, in realtà Schwarzman, in realtà lì in macchina hanno messo della gente super giusta e che esattamente come gli altri sei che hanno guidato la rossa sono riusciti a fare per gran parte di gara qualcosa di straordinario. A un certo punto poi hanno anche differenziato le strategie per cui la 51 si è ritrovata un po' più indietro per via di quello che stava succedendo rispetto alla 50, ma va detto che nonostante alcune fallosità in più, che sono frutto della ricerca massima, anche del secondo, mollavano le macchine a rischio di un safe release ogni volta, veramente erano, non lo so, hanno fatto una roba assurda, sono stati bravissimi davvero, si sono presi anche dei falli, si sono presi anche delle ammunizioni, si sono presi anche dei secondi di penalità, quindi hanno rischiato anche grosso, però è servito. Ma va anche detto che in tutto sto cinema, in tutto sto cinema, a vincere è stata ancora una volta la 499p, che curiosamente, curiosamente, corre da un anno e mezzo e l'uniche due gare che ha vinto, l'uniche due gare che ha vinto è sempre stata molto competitiva, ma le uniche due gare che ha vinto sono le due 24 ore delle man. Pazzesco! E tra l'altro questa volta non si può nemmeno avere il sospetto che gli hanno dato un bop buono, perché in realtà la macchina è stata penalizzata moltissimo, soprattutto dove è molto competitiva, ovvero la velocità massima, quindi gli hanno tolto un punto e mezzo di cavalleria, diciamo, agli alti velocità, e questo ha pesato molto, diciamo, nella dinamica e nell'equilibrio della vettura, ma non è stato sufficiente per evidentemente rallentarne l'equilibrio, perché poi il bello di questa macchina qui è che è una vettura molto, molto equilibrata, riesce ad andare forte sull'assunto, riesce ad andare forte sul bagnato, si trovava in difficoltà rispetto alle Porsche, alle Cadillac e anche alle Toyota in situazioni di compromesso, lì ce ne sono state tante durante questa gara, ma appunto sono sempre state compensate dal lavoro dei piloti, dal lavoro del muretto, dal lavoro anche chiaramente del culo, che puoi avere o meno nel beccarti del safety car al momento giusto, o appunto rigirarti a tuo vantaggio in situazioni strane, come quella di una porta che non si chiude a un'ora dall'arrivo, e lì ti inventi, ti giochi il jolly, dici, sai cosa c'è, io faccio il pieno, arriverò pure così, impiccato, gli altri pensavano che la Ferrari avrebbe dovuto fare uno splash di benzina, ma in realtà questo splash non l'hanno fatto, ci sono arrivati così, e alla fine hanno vinto la corsa. 3% di energia, grandissimi, e secondo me il vero gioiello di questa macchina, oltre alla progettazione, oltre al team, oltre ai piloti, 9 piloti straordinari, diciamo i 6 che sono arrivati in fondo, assurdi, l'anno scorso hanno vinto quelle della 51, quest'anno hanno vinto quelle della 50, ma il pezzo forte di questa macchina qui non è solo il telaio, non è solamente l'equilibrio, ma secondo me è quello che distingue da sempre la produzione della Ferrari, ovvero, rullo di tamburi, il motore. Eh sì, nonostante sia un V6, ecco adesso ce l'ha pure un V6 oltre che un tre cilindri, eh ma è sempre, è sempre 3x2, ma in realtà quel motore lì, si chiama F151, se non ricordo male come sigla di progetto, aspetta che guardi, in realtà è un motore che è assolutamente straordinario per quanto riguarda le sue caratteristiche di costruzione, è straordinario per 163, è straordinario per caratteristiche di costruzione, è straordinario per versatilità, è straordinario perché viene realizzato interamente nel perimetro di Maranello, dentro la fabbrica, fanno le fusioni, perché i Ferrari, e poi l'elemento chiave della produzione Ferrari, fanno anche le fusioni, quindi si fanno l'abromotore, si fanno il banco, si fanno tutto, e gran parte delle componenti di questo F163 sono esattamente le stesse che potete trovare sulla 296 GTB, sulla 296 GTS, sulla... che arriverà fra un po', e su altri modelli che arriveranno, perché dopo un motore straordinario come il V8 che abbiamo conosciuto sulla California T, sulla Portofino, sulla Roma, sulla Roma Spider, sulla 488, sulla... come si chiamava? F8 Tributo, sulla SF90, sulla SF90 Spider, sulla SF90 XX, anche sulla GTC l'hanno messo, in realtà quel motore lì, un motore incredibile, tra l'altro anche con declinazioni Maserati, con albero motore diverso, non albero piatto, ma albero a croce, e cilindrata diversa, se non ricordo male, però quel V6 lì, nonostante sia un V6, in realtà ha delle caratteristiche che sono uniche, in assoluto, nel panorama automotive, perché da un lato è a V di 120 gradi, e allora lì mi dite, eh vabbè, ma anche quello dell'Artura, della McLaren è a 120 gradi, perfetto, però intanto, l'hanno fatto, diciamo, l'hanno concepito prima loro, e poi alcuni messaggi sono arrivati anche in McLaren, e ci hanno fatto anche loro i 120, ma a parte il discorso dell'angolo, che comunque è abbastanza curioso, perché solitamente i motori V6 li fanno tutti, o V90, perché di fatto sono dei V8, tagliati di due cilindri, o li fanno V60, se sono nativi, e quindi diciamo, giocano su un angolo corretto, per farlo funzionare, poi c'è chi invece fa i motori in linea, tipo BMW o Mercedes, per intenderci, ma quello è un altro paio di maniche, loro invece hanno deciso di fare un 120 gradi, proprio per tenerlo basso, di baricentro, farci stare bene le bancate al centro, e consentire appunto alle macchine, di avere una perfetta installazione, molto in basso, con l'albero motore piazzato in bassissimo, con il cambio messo ancora più in basso, tanto è che quando aprite il vetro delle Ferrari, praticamente il motore non si vede, perché è raso a terra, e non lo vedi, quindi questa è un po' la questione, però in realtà, quel motore lì nasce da, lo sanno anche loro che il V6, è meno bello del V8, però il V6 ti consente diverse magie, soprattutto a fronte delle capacità, dei materiali, dell'evoluzione della tecnologia, della chiaramente capacità di progettazione, che è andata avanti sotto un milione di punti di vista, della presenza delle turbine, ovviamente che ha consentito poi a questo motore, che ha queste caratteristiche, e soprattutto diciamo, viene fatto in casa per essere, in modo nativo, un motore per auto performanti, gli consente di andare a supplire, il suo non essere vuoto, introducendo nella parte stradale, ad esempio, delle soluzioni elettriche, che vanno a compensare il lavoro del V6, questo ha consentito a ferrare, anzi, della ridotta cilindrata, vanno a compensare il lavoro di turbine, che sono molto generose, ed è per questo che poi da lì riescono a tirare fuori, tanti, tanti, tanti cavalli litro, proprio perché in basso ci fanno lavorare la parte elettrica, e laddove il motore è vuoto, quindi laddove il motore è vuotino per via di cilindrata, ma è vuotino anche per via di turbine piuttosto grandine, rispetto a quanto eravamo abituati a vedere in Ferrari, beh, a quel punto lì interviene il motore elettrico, dà quel boost che serve, proprio per compensare questi momenti, e da lì in poi spinge, tra l'altro a regime assurdi, il V6, quindi in realtà è un motore che nasce per offrire prestazione, nasce chiaramente come motore abbinato al librido per quanto riguarda la parte stradale, ma nasce anche come motore in grado di essere più leggero rispetto ad un V8, nel momento in cui vai a levargli la parte elettrica, consentendo alla GT3, la 296, di essere un aeroplano, consentendo alla 296 Challenge di essere un aeroplano, va molto più forte, tutte e due vanno molto più forte rispetto alle 488, che erano comunque dei pezzi straordinari, e in più, guarda un po', e questo è il simbolo della globalità di questo progetto, consente anche ad una vettura come la 499p, di essere stravincente a Le Mans. Curiosità, le uniche due gare che ha vinto, lo ripeto, sono le 24 ore di Le Mans, ma è l'unica gara che conta in realtà all'interno di quel campionato. Poi c'è anche chi, come Toyota, diciamo, apprezza vincere il campionato, ma chi se ne frega, non si ricorda nessuno chi vince il Mondiale WEG, tutti si ricordano chi vince la 24 ore di Le Mans, perché quella è la gara delle gare. dopo che sono sparite di mezzo la targa Florio e la 1000 Miglia, quindi assieme alla 24 ore del Nürburgring, che una volta era la 1000 km, che poi è diventata la 24 ore del Nürburgring, eccetera, ma insomma, comunque diciamo, una volta c'erano due le gare, erano la targa Florio e la 1000 km del Ring, e poi adesso le gare sono diventate la 24 ore del Ring, per quanto riguarda la classe GT, oltre alla 24 ore di Spa, ovviamente, ma un po' meno la Spa, meglio il Ring, ma poi la gara delle gare, per quanto riguarda il GT, e anche chiaramente le vetture a ruote coperte, è la 24 ore di Le Mans. Poi c'è Monaco, per quanto riguarda le macchine della Formula 1, c'è la IndyCar 500, per quanto riguarda la parte americana, della IndyCar, poi ci sarebbe da tenere in considerazione, sicuramente Sebring, e la 24 ore del Tona. Levate queste gare che ho detto, il resto non conta un cazzo, praticamente, cioè conta come vincere a Spa, ma anche no, non succede niente, quindi, da quel punto di vista lì, infatti, il Triple Crown, te lo danno, se vinci Monaco, vinci la IndyCar, e vinci la 24 ore di Le Mans, questo è il Triple Crown, che in pochissimi piloti, ditemi qua sotto, chi ha avuto il Triple Crown, però, queste sono le gare che contano, nel contesto di queste vittorie, il motore della 296 calato all'interno della 499p, è un motore vincente, perché si è rotto altra roba nella macchina, la parte elettrica appunto, ma in realtà il motore ha tenuto pacca, e tra l'altro mi piaceva un sacco all'inizio, molto marchionnesca come cosa, gli faceva lo scherzetto, perché sputtava olio come un pazzo, infatti, il ragazzo va a grippano, però dopo, evidentemente, aggiungevano un po' di olio, in alcuni rifornimenti, cosa che è legale, che si può fare, ma, evidentemente, credo ci fossero delle strategie, sul consumo dell'olio, che consentivano poi a questa macchina, di fare un certo tipo, di risultato, ma, oltre a tutto questo, oltre al fatto di essere un motore vincente, super affidabile, di dare equilibrio alla macchina, assieme alla parte elettrica, che ha fermato Kubica, guarda Kubica, Robert, fattene fare una senza l'elettrico, però che l'ha fermato, anche Ifei è simpaticissimo, ha compiuto 23 anni, nella notte di ieri, ha fatto da 23 a 24, incredibile, facendo le 24 ore di Le Mans, assurdo, un grande, Ifei è numero uno, cinesino fantastico, però, detto questo, in realtà, la straordinarietà di tutta questa roba qua, è che, non solo, ce fanno la 296, in varie salse, non solo, ce fanno la 499p, che vince a Le Mans, ma ci fanno pure 30 pezzi, 32, non si sa quanti sono, della 499pm, ovvero la vettura di Le Mans, modificata, per andare in mano a quelli dell'FXX, quindi i clienti racing, dei corsi clienti, che in realtà, magari corrono col GT3, magari corrono col Challenge, magari hanno le Formula 1, pensa a quanta roba fa a quel posto lì, sempre diretto da Coletta, il genio poi è Coletta, però quel motore lì, è stato pensato, pensa all'ampiezza di sto motore, è una cosa che puoi fare, solo in un'azienda così, l'ampiezza di sto motore, è quello di andare sullo stradale, di andare a vincere alle manne, contemporaneamente, di fare una macchina, che è l'esatta replica, della vettura, che vince alla 24 ore delle manne, è uguale, è la stessa macchina, anzi va di più quella che danno i clienti, perché non ha limitazioni sulla parte elettrica, quell'elettrico spinge da zero, invece alle manne spingeva da 190 all'ora in su, ma in realtà appunto, questo motore consente, proprio perché è sì un motore raffinato, ma non è un motore come quello di un Formula 1, che è infinitamente costoso, da produrre, da gestire, eccetera, è un motore che ha lo stesso banco, lo stesso basamento, del 296 stradale, poi chiaramente cambiano alcune componenti, per essere adattate al mondo del racing, ma non è un motore estremo, da un punto di vista, di progettazione, tanto da non essere gestibile, paradossalmente, è più facile da gestire il V6, che hanno messo, sulla 499p, rispetto a quello, che ha fatto Mercedes, con l'MG1, che sono impazziti, per fare la versione stradale, e lo posso immaginare, ma, poi, anche con, diciamo, buoni risultati, per carità, ma se queste da Ferrari decidessero di fare la versione stradale della 499p, potrebbero farla, credo, domani mattina, perché ci mettono il motore della 296, che è già omologato, ci mettono la targa, le fari, le frecce, ce li ha già, gli specchietti, ce li ha, possono fare, volendo, se volessero, la versione omologata domani mattina, anche perché si accende con la chiave, cioè, è assurdo, capisci, ecco il bottone, non deve avere i guanti, però, perché se li mettono il volante della, non si accende con i guanti, il volante dell'SF90, di tutte queste Ferrari qua, perché è un touch, se i guanti non va, devi comprarti il guanto apposta a Ferrari, col touch, tipo quello così per telefonire, allora si accende, però scherzi a parte, in realtà, la straordinarietà di quel motore lì, è consentire di essere un motore super veloce, super affidabile, super tutto, ma allo stesso tempo, anche semplice da produrre, e lo fanno in linea di montaggio, e lo fanno in linea di montaggio, in fonderia, esattamente come fanno gli altri motori, non è che c'è una fonderia apposta, non è che usano materiali, qualche materialino apposta, ce l'avranno anche, ma il motore è quello, e questa è l'incredibile incredibilità, di questo successo, è l'incredibile incredibilità, di questa azienda, è dell'incredibile incredibilità, di un lavoro, che a 360 gradi, evidentemente ha premiato Ferrari, sia sul prodotto stradale, perché comunque la 296 la vendono, sia sul GT3, ne stanno vendendo una paccata, sia sul, che in realtà poi non è che abbia fatto benissimo, ma non solo per problematiche legate alla macchina, che comunque è giovane, e si farà, come diceva De Gregori, anche se c'ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà, con la maglia numero 7, però in realtà, è un motore appunto, che a 360 gradi, challenge, e sa fare un sacco di roba, quindi tanta roba, chapeau, per un'azienda, che non ha, più, diciamo, la dimensione, per fare un certo tipo di macchina, intendo, una roba super estrema, come la Marry, per intenderci, è una roba veramente, da 100 pezzi, non ha più quella dimensione lì, per fare uno stradale, fatto così, anche se in realtà, basterebbe immatricolare l'E499P, e verrebbe fuori quella roba là, però, ecco, col motore 12 cilindri, aspirato, con un certo tipo di soluzione, appunto, che deriva, infinita, strettamente, ma intrinsecamente, e, come si può dire, in modo viscerale, dal racing, perché quello del 296, è un motore stradale, fondamentalmente, è adattato al racing, ma è un motore stradale, lì intendo, proprio un motore da competizione, portato su una macchina stradale, come ha fatto Marry, o come ha fatto Aston Martin, con la Valkyrie, gli diventa qualcosa, di molto più complicato, quasi ingestibile, per un'azienda, che ha altro da fare, e che però, nel contesto dei progetti, di ampie vedute, poi ci sparano dentro pure, le robe delle man, e dicono, ma sai, stai facendo un motore nuovo, siccome noi vogliamo fare le man, non è che possiamo venire anche noi, a dare un'occhiata, a quello che stai facendo, che è esattamente, quello che poi ha fatto anche Aprilia, ma un giorno o poi lo racconteremo, sull'RSV4, quando hanno deciso di fare, insieme a Claudio Lombardi, il motore V4 a V di 65 gradi, e qui torniamo a Ferrari con il V12, anche lui era V di 65 gradi, progetto di chi? Claudio Lombardi, quindi sappiate che chi ha l'RSV4, i conti alla base di quel motore lì, sono quelli del V12 Ferrari, non me lo toglie nessuno da qui, poi è diverso il motore, come è fatto e tutto, ma in realtà è sempre V165, però ecco, di fatto, Ferrari dimostra ancora una volta, di essere un'azienda, super ampia per visione, super ampia per capacità, e anche in grado, di mettere assieme dei progetti, che vincono il debutto, e poi si confermano, ed è questa la cosa più difficile, e con questo è tutto, non vi rimane che invitarvi a commentare qui sotto, viva la persona per l'auto e full gas, e sempre, ciao!